Si dice che un giorno la fortuna bussa alla tua porta e che io non avevo più neanche una porta, signor Fredore. Ero l'unico sfrattato in tutta Italia. Mai una buona notizia. Mai uno che ti batta una mano sulla spalla e ti dica Mazzarelli Giuseppe, ha vinto il concorso. Mazzarelli Giuseppe? Ho vinto il concorso? No, si alzi che dobbiamo caricare la poltrona, via.